A Pestum per la terza volta per raccontare agli espositori e al pubblico della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico il Parco Archeologico di Sibari ma anche per portare con noi il territorio perché abbiamo naturalmente una rete di musei civici, privati, diocesani, noi collegati che sono tutti quanti presenti qui con noi, abbiamo il materiale di tutti gli istituti e proveremo a far conoscere tutta la Sibaritide in questa Borsa. È un importante punto di incontro tra operatori del settore e quindi oltre che il grande pubblico che è presente prevalentemente nel fine settimana da qui passano operatori del settore turistico interessati all'archeologia e dunque è un punto in cui avere una visibilità a conta serve serve a incontrare persone, a stringere accordi, a fare marketing.